Ratelli, miei nerazzurri e non, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati con un nuovo video. Ragazzi, vi dico subito, mettetevi comodi perché in questo video ne avrò di sassolini dalla scarpa da togliermi, a nome di tutti gli interisti, perché in questi mesi io ne ho lette, viste e sentite, di cagate, veramente pazzesche. Siete stati scandalosi, vergogna, a depositare il contratto volutamente due giorni prima Lazio-Inter per destabilizzare il giocatore, che poi da che pulpito veniva la predica? Parliamone ragazzi, parliamone. Comunque, facciamo chiarezza. Ovviamente lo saprete meglio di me, l'Inter ieri ha ufficializzato i vari De Frey, Asamoah, sui giocatori mi sono già espresso, grandissimi acquisti, soprattutto De Frey a zero, un colpaccio, uno dei migliori difensori della Serie A ragazzi, non vedo ora di vederlo all'opera con Skriniar, mamma mia che coppia, e Asamoah, che comunque è un buonissimo giocatore, polivalente, può giocare centrocampista, può giocare mezzala, può giocare esterno, può giocare terzino, quindi soddisfattissimo di entrambi i colpi, soddisfattissimo del calciomercato dell'Inter ragazzi, lo sapete. Non mi voglio concentrare molto su questo aspetto, ma sul tema contrattuale, perché ieri, poco prima dell'annuncio ufficiale dell'Inter, la Lega Calcio ha pubblicato sul suo sito, ragazzi, link in descrizione del mio profilo Instagram, lì ho pubblicato una stories con l'annuncio ufficiale della Lega Calcio, dove c'erano le date di pubblicazione, di deposito dei contratti, seguitemi su Instagram, seguitemi qui su YouTube ragazzi, vi ringrazio di cuore, stiamo crescendo tantissimo, veramente vi mando un grande abbraccio. Cosa abbiamo letto ragazzi ieri insieme? Che praticamente il contratto di De Frey, sapete quando è stato depositato? Il 29 marzo, due mesi prima Lazio-Inter, due mesi prima. Adesso tutti i complottisti che hanno detto, l'avete fatto apposta a depositarlo due giorni prima Lazio-Inter, vergognatevi. Adesso che mi dite? Adesso state muti, muti, tutti quanti. Giornalai di una vergogna pazzesca a far uscire la notizia volutamente in quella settimana, così si poteva buttare fango gratuito addosso all'Inter, e beh ovviamente. Ma ormai questi giochini ragazzi, se siete furbi, se mi seguite, ho fatto video su video, sui giornalai, capite come funziona qua in Italia ragazzi? Ormai non ci dobbiamo più scandalizzare di queste cose, di queste cose. Per questo io vi dico poi sempre di fidate ragazzi dei giornalai, perché non sono così affidabili. Ovviamente i complottisti hanno cavalcato l'Omda, e ricordo lo stesso Tare, Tare, due o tre mesi fa, fu lui il primo a parlare di De Frey all'Inter, disse l'Inter non ci deve degnare manco di una chiamata, perché non c'è bisogno, queste cose nel calcio succedono, eccetera eccetera. Poi a Champions League persa, sul campo, la Lazio si è suicidata calcisticamente, l'Inter non ha colpa, De Frey non ha colpa. De Frey vi ha parato il culo per due mesi, sapendo già di venire all'Inter vi ha parato il culo, salvateggi sulla linea contro l'Atalanta, salvateggi sulla linea contro il Crotone, è stato sempre uno dei migliori in campo. Perfino il Lazio-Inter dove l'avete messo in croce, De Frey è stato uno dei migliori in campo, annullando i cardi. Poi ha fatto il rigore e pazienza, e ovviamente tutti ad urlare allo scandalo per De Frey. Poi, in ogni caso, farlo giocare è stata una scelta di Inzaghi. Punto, punto. Lo sapevate già quindi che De Frey sarebbe arrivato all'Inter. Adesso siete cascati tutti dal pero dopo Lazio-Inter, ovviamente. E vabbè, e vabbè. Caro Tare, io ti stimo tantissimo come dirigente, veramente chapeau, tanto di cappello a te. Milinkovic Savic, Marusic, Luis Alberto, ha pochissimi soldi, onora a te. Però sei stato un po' cazzaro, perché mesi prima dicevi una cosa, poi a Champions League persa hai detto un'altra cosa su De Frey. Comunque, spero di aver fatto chiarezza, ragazzi. Ancora una volta, non vi fidate dei giornalai. Ragazzi, adesso, notizie di calciomercato. Perché, come ben sapete, ieri vi ho portato la notizia di Malcom, che dal Brasile dicono che è fatta, eccetera, eccetera. Di Marzio, che è uno di quelli più affidabili, ha detto praticamente questa notizia, ragazzi. L'Inter ha alzato l'offerta di prestito portando a 10 milioni con un diritto di riscatto a 30. Ragazzi, siamo là. Le battute conclusive. Adesso l'ultimo intoppo qual è? Praticamente il Bordeaux vorrebbe l'obbligo di riscatto, un diritto che diventa obbligo facilmente. L'Inter vorrebbe un diritto che diventa obbligo un po' più difficilmente, per il discorso che vi ho fatto ieri, ragazzi. Perché in lista tu un diritto di riscatto lo inserisci con la somma del prestito, 10 milioni. Con un obbligo di riscatto è come se fosse un acquisto a titolo definitivo. Devi inserire in lista Champions 40 milioni. E ovviamente per la nostra situazione sarebbe meglio inserire 10. Capite, ragazzi? Quindi ci siamo. Battute conclusive, ma ci siamo. Ci siamo. Su Florenzi, ragazzi, notizia del giorno. Anzi, della settimana, si può dire. Perché in questa settimana arriverà o meno il rinnovo di Florenzi. Si arriverà o alla rottura o alla firma del rinnovo di contratto. Non dovesse rinnovare l'Inter. Ovviamente è in prima fila, ragazzi. Quindi speriamo bene. Sapete che Florenzi è uno dei pochissimi che non mi farebbe rimpiangere Cancelo. Lui e Versalico sono gli unici due dei nomi che si stanno facendo che mi piacciono tanto. Vediamo un po' come andrà a finire. Io non ci credo tantissimo perché secondo me Florenzi comunque è romano quindi vuole rimanere là. Secondo me però vuole questi. La Roma deve fare un piccolo sforzo o lui deve fare un piccolo passettino indietro. Vediamo un po'. Dopo che ci hanno dato Nengolan non penso onestamente che ci darebbero pure Florenzi. Vediamo, vediamo. Ragazzi, fatemi sapere la vostra ragazzi nei commenti sotto questo video. Seguitemi su Instagram, link in descrizione. Iscrivetevi soprattutto al canale YouTube. Ragazzi, vi ringrazio di cuore. Vi abbraccio uno ad uno. Fatemi sapere la vostra su tutte queste notizie, su quello che vi pare. Un saluto a tutti amici. Sempre, sempre amala. E diffidate dei giornalai. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.